Usciamo sconfitti da questo derby 3-0, tranne un parziale molto tirato ai complimenti a Torbore, Torbore ha giocato una gran gara, è sicuramente una squadra molto attrezzata, noi in questo momento per adesso non riusciamo a fare di più, a me gli alibi non piacciono però sono troppe assenze, chi sta giocando ci sta mettendo l'anima sicuramente, però in allenamento e in ritmo facciamo fatica a tenerlo su, aspetteremo momenti migliori, ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare a Brembo dove sarà una partita molto difficile per cercare di portare via altri punti per muoverla a classifico. Volevo ringraziare tutto il pubblico perché oggi è stato un bellissimo spettacolo.